Ho ho ho! Torna Natale a Monbaroccio! Il mercatino di Natale è giunto alla sua ventitreesima edizione all'interno del borgo di Monbaroccio! Tante le novità per vivere la magia del Natale! Natale a Monbaroccio, 25-26 novembre, 2-3-8-9-10 dicembre! Seguiteci sui nostri social per rimanere aggiornati o sul sito natalemonbaroccio.it Ho ho ho! Grazie a tutti!